Buonasera, grazie a tutti e cinque per aver risposto, bello vedere che c'è tanta gente che voglio riuscire la sera, è un ictus il tuo, l'espressione che tieni tutta la sera, che bella la prima fila così, che istituto è, a che punto siete della terapia, se hai i cestini te o ancora, però in effetti è così, ci sono questi centri benessi, queste cose che poi usano questi nomi tipo amam, amam, poi dici che cazzo è amam questi nomi, poi vai alla cassa e dici voi siamo in due, centodieci, amam, amam, capisci già il nome, è una garanzia di quello che succede alla loro, entri in questo centro benessere, entri proprio finalmente nel centro benessere e la prima persona che ti si fa avanti, che ti si fa, che ti si paventa davanti è il maestro del benessere, maestro del benessere che è il padrone di casa, quello che ti farà gustare questa giornata e tu lo vedi arrivare da lontano, vedi questo ragazzo bellissimo, costumino, bello tutto a torso nudo, muscoloso, i capelli lunghi belli dietro tirati a coda, con questo asciugamano davanti che ripassa le coreografie da fare in sauna, vedi che proprio arriva con questo coso, arriva davanti a te, si prende, si bene fa, ciao sono Ivano, tu inizi a guardare e dici Ivano, almeno un braccio di distanza, prima volta che venite qua, sì anche l'ultima, anche l'ultima, sapevo che ero un inculato ma non pensavo fino a sto punto, allora basta con queste battute, allora iniziamo col percorso Kneipp, conosci il percorso Kneipp? Conosco quello dell'ACNOR, non so se è lo stesso, allora tu entri nella prima vasca e c'hai questa acqua calda, caldissima, oltre i 40 gradi, tu entri, poi è proprio altezza, proprio, si è camminato, ma sai che effettivamente anche sti sassi, ah, poi la tua bella passeggiata, ah, metà picchietti per vedere se sono sode, proprio, ah, sai, ah, e sai, arrivi fino in fondo, fino in fondo, dall'altra parte, arrivi dall'altra parte che c'è Ivano che ti aspetta, col suo entusiasmo, su, salta di là, tu ti fai prendere dall'asciugamano, hop, salti, cadi nell'altra vasca che è uguale, identica, acqua, anche lì la differenza che l'acqua è a meno 20, non è ghiacciata, l'unica acqua che è a meno 20, non ghiaccia, tu quando entri, hop, le balle, subito, ad un certo punto dall'entusiasmo, dai, salta di là, tu ancora ti fai prendere l'acqua di entusiasmo, salti, dall'acqua fredda a meno 20, arrivi a quella più 40, le balle, bam, secche, le perdi subito. Per esempio, a me invece è una cosa più semplice, che mi è successo, mi hanno regalato un massaggio thailandese. Ora chiedo, c'è qualcuno? Questi mi stanno guardando con una faccia come dire, cazzo, che pensavo che oggi spiegava, no, oggi sono le domande, ragazzi, sono le domande, domande, così, è giusto per tenervi un attimino svegli, qua deve essere già entrata in circolo alla terapia, perché... Io questo lo saluto adesso perché non ci arriva... Dai, su, poi passa. Questo regalo, questo massaggio thailandese che mi ha lasciato sorpreso, anche perché io, per esempio, non ho mai fatto neanche un italiano, quindi figuriamoci che cazzo ne so di un massaggio, quindi sono... Oh, bello amico mio, bello, bello amico mio è venuto a fare massaggio, bravo, bravo amico mio, bello, vieni che ti ho fatto massaggio, vieni, vieni che ti ho fatto massaggio, 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 vieni in mano un sacchettino e se ne esce, zic, e tu rimani con sto sacchettino in mano, apri, lo apri, sto sacchettino e c'è un elastico, cioè sono due elastici legati con un pezzettino di carta, ma sarà un due per due, una roba così che apre e trova questo deficiente con l'asciugamano, perché l'eleganza, tutto completamente nudo, con questa cosa in testa, perché per me era una cuffietta, questo è un fax, è arrivato un fax, ma no, ma quello lì è un perizoma, devi girarlo, la carta va davanti, va davanti, cinque minuti e torno, insomma, per farvela breve, questa se n'è andata, io l'ho girato, mi son fatto trovare col triangolino davanti, però devo essere sincero, non so voi, ma a un coglione, è rimasto fuori. Grazie, grazie.